Maiko Italia presenta la gamma SVP, sistemi di pressurizzazione per locali filtro a prova di fumo, progettati e realizzati secondo le disposizioni del DM del 3011-83. Il filtro fumo è un vano delimitato da strutture con resistenza al fuoco Ray predeterminata, dotato di due o più porte tagliafuoco, posto tra una zona a rischio d'incendio e un'uscita di sicurezza. In caso d'incendio, consente di creare una via di esodo verso un luogo sicuro. I sistemi SVP sono dei kit composti da un quadro di comando, un'unità di pressurizzazione e un pressostato differenziale. Hanno la funzione di pressurizzare meccanicamente, tramite l'azione di un ventilatore, il locale filtro e di mantenerlo a livello minimo di sovrappressione di 0,3 millibar anche in condizioni di emergenza. I sistemi SVP sono indispensabili per tutte quelle attività soggette ai controlli dei vigili del fuoco, secondo il DPR 151-2011. In caso di allarme e incendio, il quadro di comando segnala l'evento attivando il LED rosso sul pannello frontale, l'avvisatore acustico e azionando il ventilatore dell'unità di pressurizzazione posta all'interno del filtro. Il quadro di comando è in grado di gestire autonomamente diversi segnali di uscita, come ad esempio sbloccare i fermi elettromagnetici posti sulle porte tagliafuoco, permettendone la chiusura. Il ventilatore dell'unità di pressurizzazione consente di mettere in sovrappressione il locale raggiungendo in pochi secondi la soglia minima di 0,3 millibar. Il sistema è garantito per funzionare per un minimo di 120 minuti anche in caso di blackout grazie alla presenza di batterie tampone inserite all'interno del quadro di comando. La pressurizzazione può avvenire anche in modo continuo 24 ore al giorno in caso di filtri con porte tenute normalmente chiuse. Per questa configurazione di filtro sono disponibili sistemi SVP2 con motore EC e SVP2 Plus con motore EC e un set aggiuntivo di batterie tampone. A completamento dei sistemi SVP, Maico Italia propone la serie di condotte rettangolari RayDact, resistenti al fuoco e certificate secondo l'indice EI120. Le condotte RayDact assicurano il trasporto di aria pulita da una presa esterna sino al pressurizzatore, passando anche attraverso le zone in cui si è sviluppato l'incendio. Condotte e raccordi sono realizzati in materiale metallico per ottenere una perfetta connessione, garantendo semplicità e sicurezza nel montaggio grazie anche al kit di installazione in dotazione. I sistemi SVP sono marcati CE e certificati dall'Istituto Giordano SPA, laboratorio indipendente autorizzato dal Ministero dell'Interno italiano.